Ti ascoltiamo. Anche no, direi che faccio altro. Sembra l'inizio di questo piccolo grande amore. Quella sua maglietta finale. Oddio! Ma che è successo? Che bella pronuncia che c'ha. Niente male. Ma che bravo. Madonna! Non l'avrei mai detto. Io sono ancora scioccata. Ti ascoltiamo. Sì, adesso sì, ti ascolti un'altra volta. E un'altra volta ancora. Incredibile. Incredibile, non ci avrei mai scommesso. Suona anche al piano, canta. Eh, furboni, tra l'altro. Adesso inquadrano proprio Martina. Martina, una casa, eh. Ma poi questo ciuffo biondo, lo so perché, mi ricorda un po' Justin Bieber. Mi farei cantare una canzone di Justin Bieber. Io devo dire che noi siamo... Grazie. Grazie. Vabbè, bravissimi.